Salve a tutti e bentornati all'angolo della Libraia. Oggi parliamo di Legend, il secondo volume della saga Shade of Magic di B.A. Schwab. Victoria Elizabeth Schwab, statunitense, classe 1987, in patria è diventata famosa soprattutto tra gli adolescenti grazie ai suoi numerosi romanzi sui supereroi. Qui da noi invece è conosciuta più che altro per la serie Shade of Magic, una trilogia di cui in italiano sono già usciti i primi due volumi, che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di cui è già in corso una trasposizione cinematografica ad opera di Gerald Butler. Legend si apre quattro mesi dopo i terribili eventi della notte nera narrati in Magic, il primo volume della saga. Kel e Rhee vivono con senso di colpe e disagio reciproci il loro nuovo ed indissolubile legame. L'Antari si sente responsabile per aver contrabbandato la Pietra Nera, tanto più che il re e la regina continuano a farglielo pesare e l'intero popolo di Arnès lo guarda ora più con preoccupazione che con riverenza. Inoltre il potente mago è irrequieto, ma deve trattenersi e salvaguardare costantemente la sua salute per evitare di mettere in pericolo il fratello. Rhee, dal canto suo, sa di aver peccato di ingenuità cadendo nel tranello dei gemelli Dane e non crede di meritare il enorme sacrificio che Kel ha fatto per salvargli la vita. Lilla è rimasta nel mondo rosso, ma ha lasciato la capitale, si è imbarcata su una nave corsara ed ha stretto un forte legame con il suo misterioso ed affascinante capitano, Alucard Henry. I suoi nuovi sentimenti nei confronti di chi la circonda, nonché quelli che sa di provare per Kel e Rhee però, la spaventano perché la mettono nella condizione di poter soffrire. Inoltre ha scoperto di possedere una notevole affinità con ben tre elementi e quindi si interroga sulla sua vera natura. Intanto nel mondo grigio il vecchio re è morto ed il nuovo sovrano pare interessato a scoprire se sia ancora presente una qualche sorgente magica. Quanto a Londra Bianca, rimasta ormai isolata, un nuovo sovrano ha preso il potere e la sta facendo letteralmente rifiorire. In questa precaria situazione, Arnès si prepara ad ospitare il Torneo Internazionale di Magia, in cui tra i regni del mondo rosso, Arnès, Visk e Faro si sfidano con 12 campioni ciascuno. I giochi si tengono ogni tre anni, ma sulla nuova edizione prende una grave minaccia, che rischia di coinvolgere l'intero mondo rosso. Dunque, a differenza del primo romanzo, il secondo volume della saga non può in alcun modo considerarsi autoconclusivo e presuppone la conoscenza di magic. Ancora una volta, l'autrice riesce magistralmente a catapultare il lettore in una realtà fantastica e complessa, con una storia forse meno avventurosa, ma comunque ricca di suspense e colpi di scena. Dall'intreccio solido, è fondamentale per approfondire la psicologia dei personaggi. Si tratta davvero di un fantasy di alto livello e io sto già frenendo per l'uscita del terzo e purtroppo ultimo volume. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto qui all'angolo della libraria. Ciao!